Stai curioso di scoprire cosa i ricchi di Adopt Me offrono per il nuovissimo Fleur de Ice leggendario Neon? Sei nel video giusto, andiamo subito a scoprirlo. Ciao Dreamers, io sono Francesca e bentornati sul canale, bentornati in un nuovissimo video di Adopt Me. Oggi ci connettiamo per il 1144esimo giorno, 200 dollari, oh yes! A livello di Sleutelle siamo a 371 e voi ragazzi un bel, bel, bel mi piace, eccolo qui, un bel mi piace adesso per altri video trade, questo avendo delle, aspettate, donazioni, ok tutti, mi stavo impallando un secondo, mi stavo proprio tipo impallando tantissimo, soldi e 100, ok 100 bucks mi piace, la prima volta che mi succede abbiamo 100 bucks e 300 e una pozione invecchiate, che non ci frega per nulla. Mentre siamo, gioco alla furia del ghiaccio, fai un pet neon, compra un egg dalla, vabbè queste cose, forse possiamo fare, compra un regalo, sì magari andiamoci a fare, compra un regalo da Santa Claus, giusto per toglierci qualche missione e permettere ad altre missioni di uscire. Il server non mi sembra male, quindi ok, credo che devi rialzare un po' la musica, ok proviamo a fare così su 50, perché non sento totalmente niente. Allora compriamo il piccolo regalino da Babbo Natale, ok, perfetto, richiedi. Dai o ricevi questo qui, lo lasciamo, può essere che ci dà qualche cosa. Allora mi prendo un attimo i miei gingerbreads dall'interno del lago, sapete? La prima cosa da fare ragazzi è sempre e comunque, è buggato tantissimo, prendere i gingerbreads, poi proviamo a scambiare. Ovviamente se nel frattempo mi chiederanno di fare il pet rescue, ovviamente si va. Oggi ero super indecisa se pubblicare o meno, perché essendo l'8 dicembre, non so, buona festa dell'immacolata a tutti, solitamente questi giorni non pubblico, ma dato, ce la faccio, ho sempre 30 secondi di tempo, ce la faccio ragazzi, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio, datemi un secondo, ma dato che solitamente gli anni passati, l'8 dicembre, vabbè quel gingerbreads lo lasciamo, l'8 dicembre, Natale, questa settimana, le festività, questo anno in realtà le festività sono un po', va bene, devo andare, sono un po' strane, ok ce la facevo, vabbè ce la facevo, le festività sono un po' strane, perché stavo guardando proprio il calendario adesso, allora oggi è il, oggi è venerdì, sì, ed è venerdì 8 dicembre, mi ero segnata bene, però poi per esempio abbiamo domenica 24, è già Natale, è la vigilia, e io, vabbè, la domenica non pubblico se non pubblico shorts, pubblico solo qualche shorts, e stessa cosa solitamente la vigilia di Capodanno, ovvero il 31, anche lì solitamente non pubblico, ma è comunque, comunque una domenica, quindi è festivo, non so, quest'anno sono indecisa se pubblicare anche a Natale 25 e 26 e i primi giorni di gennaio, sono un po' indecisa, ma quest'anno sono presa bene, quindi secondo me mi ritroverò a pubblicare comunque, sono davvero presa benissimo, aspetta, aspettate, vai che abbiamo vinto sister, vai, abbiamo vinto sister, insisti, insisti sister, ok abbiamo vinto, ma c'erano altre persone, sì ok, c'erano altre ragazze, allora punteggio di squadra 4.900, dimmi 3.200 gingerbreads e non se ne parla più, 3.200 gingerbreads, oh yes! Ok, andiamocene quindi a questo punto finalmente a scambiare il nostro pet, allora scriviamo trade, neon, fleur, fleur de la cour, fleur de isse, per il momento il nostro pet non ha pozioni, quindi dovremmo decidere, vabbè me ne conviene andare direttamente lì, mi converrà a decidere se voglio dargli una pozione o meno, lo mettiamo tra i preferiti, non ho deciso ancora se voglio dargli una pozione o meno, prendi e vai, vediamo un po', ok, Nathan, ah già ragazzi mi sono dimenticata anche di farvi vedere più o meno il valore, allora questo secondo me già ci starebbe come cosa perché mi piace, però già ce l'ho, sta facendo anche altri add, addirittura 4 dragonfly leggendarie per fartelo neon, nice offer, but no thank you, era un nice offer, allora perché se ce ne andiamo un secondo, datemi un secondo, non ve l'ho fatto vedere, ma qui ci possiamo vedere su Adopt Me 3 di Valus, era sullo stesso livello, vedete il Gordon, ovvero quello neon che mi hanno offerto, e la Lullaby dovrebbe, la Dragonfly è un po' più giù, però ok, mentre se ce ne andiamo di qua, per proprio la versione neon, abbiamo un sacco di pet di Halloween, mega, altri da Dodo neon, Butterfly Gigià neon, un po' di leggendari interessanti, altri pet mega, questo neon, cioè tra questi che vedo, vabbè questi secondo me non è proprio, ma va bene, tra pet che mi interessano qui, ci sarebbe il lama neon, forse anche un rhino neon, e un po' di questi pet leggendari qui, neon, quindi vediamo un po'. Ah, un po' sotto nella categoria c'era, nella varia liste, c'era anche il, come si chiamava, no, qua ci vuole una pozione ride, qua ci vuole una pozione ride, ce l'ho, ce l'ho, ce lo vediamo anche com'è il neon, comunque questo pet, com'è il ride, comunque a me questo pet piace un botto, cioè veramente un bel bel pet, non costa nemmeno tantissimo a livello di, non costa nemmeno tantissimo a livello di gingerbreads, Laurin, ok, vediamo Laurin che cosa ci offre, Allora, andiamo con il nostro Floor The Rise, neon ride, hey, vabbè, quindi, ehm, è per YouTube, la star, cioè mi ha visto il nome vicino alla cosa e va bene, vabbè ci siamo giocati il server, quindi ce ne dobbiamo dare, ma, eh, va bene, continuo a fare domande YouTube, eh, YouTube, vabbè, cambiamo server, ci siamo giocati proprio la copertura, in realtà è fantastico che Adopt Me abbia inserito le cosine del, la stella, la farfallina e lo smile, se siete amici, ma, ehm, per noi che magari facciamo video trade, è un po' complicato, perché poi si rendono conto che sei uno YouTuber, o comunque, eh, sei nello star program, e non so in che server andare, questo, proviamo in questo, e quindi crea un po' di, scoda di assi di sei, vabbè, si può fare, si può fare. Comunque, ragazzi, vi interesserebbe un vlog su quello che mi prefisso, che mi sono prefissata di fare entro la fine dell'anno? Cioè, non i buoni propositi dell'anno, che comunque arriverà, ma, per il 2024, ma quello che devo fare entro la fine dell'anno? Vi interesserebbe un vlog del genere? Fatemelo sapere giù nei commenti. Ok, ci siamo! Non ci abbiamo messo tanto, il che è fantastico, il che è fantastico. Allora, no, thank you, let's go, mio floor of the ice, ci prendiamo i nostri 8 bucks, ce ne andiamo al centro, ci rifacciamo il giro del lago, e torniamo subito, perché, ovviamente, ho cambiato server, sicuramente è cambiato anche qualcosa. Il bello è che, comunque, i gingerbread restano qui, anche se non li prendete, quindi per me va più che bene. Finguino! In realtà, non ho manco visto come è il server, ma vabbè. Allora, server, come se... Ok, vedo coccodrilli, butt dragon, quindi ok, floor of the ice, vai su, cavalca, e andiamo a dominare il mondo. Buonasera a tutti quanti sognatori. Come state? Sono qui per tradare un neon floor of the ice. A qualcuno interessa un neon floor of the ice? Ok, c'è Feliz Navidad Portodos, Pepe, che si è avvicinata a noi e ci ha inviato anche una richiesta a Detroit. e gentilissima, ragazza, fantastico! Mi piace, se non fosse che io il Fuffi, ah, che prurito, il Fluffi ce l'abbia già. No, thank you. Vediamo un'altra voce, un bel level unicorn, ma attualmente... Oh, che eroe! Drummond, anche lei ci invidiavano una richiesta. Ghost Bunny, Ghost Bunny, scogliattolo schiaccianosi, Ghost Bunny, cagliattolo schiaccianosi, Ghost Bunny. Floor of the ice, ha senso questa offerta, i Ghost Bunny anche mi piacciono parecchio, ma... Nice of... No, thank you. Però, interessante. Poppy! Poppy Playtime! Coppina! Uh, Gold, Pinguini, Donato, Neon, Fly, Ride. Carino. Questo è carino. Però, secondo me, non è... Non si trova più. E non ce l'ho. One sec. Fatemi vedere. A sto punto. Floor of the ice. Ride, Neon, ok. Ok. Fly, Ride, Neon. Small Lose. Eh... Dice, posso fare ra... Posso aggiungere qualcos'altro, perché mi dice Small Lose. Però già a me questa piace e l'accetto. Questa l'accetto. Vediamo a lei che cosa ci può andare, ma l'accetto. Cioè, perché così ha detto, ok, vai Poppy. Vai Poppy che comunque l'accetto. Ma sai cosa? Per me va bene. Non ce l'ho il pinguino. Di questi ce ne ho altri tre. Di questi ce ne ho altri tre. Il pinguino dorato non ce l'ho più e non si può ottenere. Per me va bene. Sicuro... Ah, scusami. Scusami, tesoro. Per me va bene. Non so nemmeno da quanto tempo sto registrando, ma problema risolto. Cioè, perché... Vediamo su se ci aggiungo anche... Mi continuo a dire Small Lose, però sapete, raga, video trade più breve della storia. Vedete? Per questo, ragazzi, io faccio questi video. Per vedere cosa offrono le persone, così voi potete capire se vale la pena fare quel determinato pet neon. E poi, per avere io determinati pet che mi mancano, anche se magari il sito mi ha detto Small Lose, per me è andato bene. Il mega capibara è interessante. Ne ho pure solo due, quello è mega. Interessante. Ma non so. Quello ce l'ho Nio nel gatto, sì, eh. Aspettate, aspettate, aspettate. Di là di no. Ma va bene. Va bene. Allora, gatto. Gatto spaventapasseri. Ah, no, ce l'ho già Nio, no. Però che carino che... Ma ok, raga, per me ho fatto, per me è andato più che bene. Fatevi sapere voi che cosa ne pensate. Ringrazio Abby che si è riabbonata con il piano Dreamer di Platino per il quarto mese. Grazie mille, Abby. Un mega bacione per te. Io vi saluto, ci vediamo domani con un nuovissimo vlog. E mi raccomando, non smettete mai di sognare. Ciao! 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 Grazie.